benvenuti ragazzi sul canale di giochi next gen siamo tornati su gta 5 oggi siamo qui con la steam standing ragazzi subito si parte dai 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 subito qui ragazzi allora dobbiamo prendere le macchine e dobbiamo andare a distruggire le nostre versatiche se non sbaglio sono di sopra sì infatti con del lanciarazzi ragazzi noi dobbiamo cercare di non farci colpire e uccidere si parte subito con questo last in standing vai 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 non troppo forte uno subito attenzione ragazzi attenzione vediamo subito vediamo subito subito vai subito subito si abbiamo già fatto esplodere il primo ragazzi un po dove vengono gli altri non sono attenti ragazzi le vedo la minima qua sono tutti lì eccolo lì vai guardatelo lì vabbè eccolo dai no 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 figlio preventiva uuuh ucciso così ragazzi eccoci qui tornati ragazzi con il secondo round il round precedente lo abbiamo vinto quindi siamo 1 a 0 per noi bravo quello che insurgent ecco qua guardate la potenza non si spaventa neanche di un insurgent ragazzi mamma mia che potenza sono tutti da sopra ora si fanno battaglia uuuh mi ha sfiorato quel bastardo con l'aereo aspetta che per i ragazzi ti distruggo ma l'ha detto bastardo questo non è nemico vai muori quel bastardo ti sposta ti va no 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 ma che cazzo fai ragazzi con le persone veramente ragazzi che è quello che stavo sopra sparano facci qua ok preso il lanciarazzi ragazzi vai 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 ora vai ora dai così dai pochissimo c'è anche il nostro compagno e vediamo un po' round perdente eccoci qui giunti ragazzi al terzo round siamo 1 pari vi ricordo che vince il primo che arriva a 4 punti non subito via 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 vai 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 subito ragazzi subito prende i ragazzi dai dai uuuh spostati o che cazzo fai siamo la sua squadra con il lì no ma no vabbè ragazzi no vabbè ragazzi ma non si può cioè non sanno guidare le macchine ragazzi guardate ero mio compagno ero mio compagno che tu possa essere maledetto brick di morire male eccoci qui ragazzi al quarto round il round precedente l'abbiamo vinto per 2 a 1 non dite nulla non dite veramente nulla ragazzi io non so la gente come guida hanno perso un sacco di tempo a bloccarsi sopra le rampe non facevano praticamente nulla ragazzi io veramente non ho parole io ho citato lì per fede mio compagno infatti ora aspetto che mi metterò sopra guardate questo bastardo non so che cosa stia facendo qua dentro eccolo qua chiedi subito ho preso vai 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 massacriamolo massacriamolo eh ragazzi mi sono passato da sopra non è ancora morto io non ci credo io non ci credo ragazzi mi sono passato sopra non è morto voi ragazzi cosa ne pensate sotto nei commenti di questi super fail guardate quello col paracadute eccolo ancora a piedi questo ancora a piedi hyperlag eccoli qua ragazzi guardate che bastardi sono in due nooo guardate quel bastardo andiamo con insurgente ragazzi muoviti 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 ok ragazzi mi ha preso insurgente almeno è blindato quello qua un nemico dove vai dove cazzo vai uuuuh ragazzi mi ha sfiorato mamma mia come sparano il bastardo come ti prenderà questo qui andiamo di distruggerlo che è un mezzo di fuoco nooo mi hanno ucciso ragazzi mi hanno preso i due bastardi da sopra ok ragazzi eccoci qui giunti al quinto round il round di prima l'abbiamo perso siamo due pari qui dove cazzo vai eccolo qui no guardate come fa da scorta guarda il distruggito è un animale muori male muori male tutto bastardo eccolo qui è caduto anche qui con l'insurgente dobbiamo farmi male con quella formica contro l'insurgente guardate il genio guardate che genio vai insurgente vai vai anche se senza rincorsa ragazzi la vedo dura vai insurgente no niente da fare nooo non esplodere un po' di qua non ce l'ha fatta questo killer e ragazzi con l'insurgente non ce la farò mai troppo pesante vediamo di prendere una buona rincorsa chi è questo guardate quel bastardo guardate guardate quel bastardo come sta provando ad andarsene guardate una bella scia grandissimo lo hanno fatto saltare in aria questo sicuramente questo piccolissimo guardate che genio tra l'altro si è andato a schiantare troppa nel corsa ragazzi no grande giravolta cade dritto ragazzi però agi nello stato puro vediamo si round vincitore tre a due per noi ragazzi ok ragazzi eccoci qui nel sesto round stiamo tre a due per noi eccolo qua vai 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 nooo non ci credo ragazzi altro fail ok ragazzi eccoci qui per l'ultimo round il settimo quello di prima l'abbiamo perso quindi siamo tre pari chi vince questo vince tutto ma ora 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 nooo di quanto ho sperato vai 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 oh mamma eccolo qui mancato no 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 ragazzi no ok ragazzi partita perdente abbiamo perso anche l'ultima partita c'è l'ultimo round quindi partita perdente abbiamo perso 4 a 3 ok ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se è così fatemelo sapere così vi porto altri last team standing ovviamente sotto come sempre trovate i miei contatti ho attivato da poco instagram quindi se volete aggiungetemi anche lì sotto trovate appunto il mio contatto anche instagram passate dalla mia pagina facebook lasciate un like, condividete, commentate il video se non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale qui da un giorno nero data 3 è tutto ci vediamo al prossimo video bella